Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di una nuova pod di casa InnoKin con le pod pre-caricate. Andiamo a vedere questo nuovo prodotto di InnoKin. Ed eccola la InnoBar C1 di casa InnoKin. Trovate in commercio naturalmente il prodotto in due confezioni separati. In una confezione vi daranno solo ed esclusivamente la batteria, quindi il comparto batteria, che è una batteria ricaricabile ed è una batteria da 450 mAh. La batteria è molto leggera e molto piccola. Sotto troviamo la presa di ricarica USB-C per la ricarica della batteria stessa. Sopra invece troviamo i nostri pin per fare contatto con le pod e il meccanismo per il tiro automatico, perché la batteria non ha nessun tasto di accensione, spegnimento, regolazione e semplicemente una batteria con tiro automatico. Sotto troviamo anche il foro per l'aria. La batteria ha anche nella parte frontale un piccolissimo LED che vi andrà semplicemente a indicare la quantità residua della batteria. Quando metterete in carica la vostra batteria il LED lampeggerà di blu, mentre quando il dispositivo sarà completamente carico il LED si spegne. Quando vedrete il LED lampeggiare 10 volte vuol dire che la batteria si sta scaricando. Quindi non abbiamo un multi-LED che vi indica la carica residua della batteria, che man mano che si scarica cambia colore il LED, come succede in altre pod, ma qui il LED rimane sempre blu, tranne quando si sta per scaricare completamente la batteria che inizia a lampeggiare. A quel punto dovrete mettere sotto carica la vostra batteria. Negli altri pacchetti invece che trovate in commercio ci sono le pod. Sono pod precaricate, pod che contengono 2 ml di liquido, possono contenere o non contenere l'additivo e inoltre abbiamo svariati gusti. La particolarità di queste pod precaricate è che contengono al loro interno un liquido con il 30% di acqua bidistillata. Questo che cosa vuol dire in termini aromatici? Nulla di particolare, nel senso che l'aroma che sentita all'interno è un aroma buono, sono principalmente quasi tutti gusti fruttati, sono quasi tutti gusti leggermente freschi, mentolati, quindi che ricordano molto i sapori delle usa e getta, ma il fatto che contengono il 30% di acqua al loro interno fa sì che il liquido risulti meno chimico, risulti meno aggressivo e arrogante in bocca e soprattutto in gola. Soprattutto la parte mentolata e ice non è appunto così aggressiva, soprattutto in gola, come succede invece per altre tipologie di liquidi o dispositivi. In questo caso quest'acqua ammorbidisce molto il sapore, questo non vuol dire che lo rende annacquato. L'intensità del sapore delle varie pod è un'intensità aromatica ottima, ma il sapore è un po' più morbido, soprattutto anche la percezione che avete in bocca e in gola dell'ice è decisamente più morbida e sopportabile. All'interno di ogni confezione che trovate in commercio ci sono due pod precaricate. Come detto ci sono svariati gusti tra cui, aspetta che ve lo dico che io ne ho qua qualcuna e ve le mostro, Pink Lemonade, poi per esempio abbiamo la Sherry Lemonade, la Ice Cosmic, la Lemon Tart, la Strawberry Watermelon e infine abbiamo la Blueberry Grape. E questi sostanzialmente sono un po' i gusti. Come detto ricordano molto i sapori e i gusti delle classiche pod usa e getta. Con la differenza che qui non dobbiamo buttare via tutto il dispositivo, ma è una classica pod mod con tank precaricati, con pod precaricate. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la batteria rimane a voi. Il comparto batteria non va buttato alla fine di ogni utilizzo, ma rimane a voi. La potete ricaricare infinite volte, quindi questo vi rimane a voi sempre in tasca. Ciò che dovrete invece andare a cambiare di volta in volta sono le pod, perché le pod non sono refillabili, quindi non potete metterci il liquido che volete, non potete ricaricarle e una volta che il liquido al suo interno è finito, quindi quando tirate sentite che non esce più vapore, va staccata dalla pod e ne va presa un'altra da inserirci. Il tiro è un tiro abbastanza contrastato, non è un tiro estremamente arioso, ma è un tiro moderatamente contrastato, abbastanza piacevole. La quantità di vapore è una quantità di vapore normalissima per una pod mod, lo scopo di questo dispositivo non è quello di fare tanto vapore. La qualità aromatica, come detto, tutto sommato molto appagante e decisamente morbida, data dalla componente acqua che c'è al suo interno. La cosa su cui vorrei sempre porre l'attenzione è il fatto che sono pod precaricate, con liquidi precaricati, ma con una piccola attenzione. All'interno non c'è nicotina in freebase, quindi la nicotina che potreste utilizzare se utilizzate delle pod refillabili, quindi dove ci mettete voi dentro il liquido. Qui all'interno c'è un liquido con sali di nicotina, con tutto ciò che ne comporta. Se qualcuno di voi ha qualche dubbio vi invito ad andare a vedere precedenti video dove ho parlato approfonditamente sia del discorso di come utilizzare in maniera intelligente un dispositivo che contiene sale di nicotina e ho parlato anche dei sale di nicotina stessi. Che cosa sono, come l'organismo li percepisce, quali sono i rischi e tutto quanto. Quindi vi invito ad andarvi a vedere quegli altri video. Qui la scelta è stata quella di utilizzare quindi i sale di nicotina. Ci saranno gradazioni differenti di sale di nicotina e anche le pod a zero. Occhio sempre al discorso di come utilizzate questo dispositivo. È vero che è una pod mod classica con tank precaricati come ce ne sono stati anche in passato. Però occhio che qui ci sono i sali di nicotina. Quindi non vanno utilizzati questi dispositivi così come siamo abituati a utilizzare le classiche pod mod con dei liquidi che contengono nicotina in freebase. Questo che cosa vuol dire? Che non dovete starci appiccicati tutto il giorno a sta roba. Questi dispositivi vanno utilizzati in una maniera totalmente differente dalle pod mod pur essendo una pod mod. Vanno utilizzati al bisogno per pochissimi tiri e non in maniera continuativa come vengono utilizzate, come siamo abituati ad utilizzare qualsiasi altro dispositivo del mondo della sigaretta elettronica. Che sia un kit, che sia una pod mod, che sia qualsiasi dispositivo che noi oramai abbiamo preso l'abitudine appunto di avere il dispositivo sempre tra le mani, farci due tiri ogni cinque secondi. Insomma è diventato quasi più una forma di routine, di abitudine sistematica tenerci in mano questi dispositivi e continuare a fare due tiri ogni dieci secondi. Ecco questi non vanno utilizzati in questa maniera. Occhio ragazzi soprattutto se utilizzate poi magari gradazione di nicotina estremamente elevati. I sali vanno utilizzati in una maniera totalmente differente da i liquidi classici. Ok? Chiaro? Perfetto. Al bisogno 3-4 tiri poi ve la rimettete in tasca e ve la scordate fino al prossimo richiamo del vostro cervello che vi chiede nicotina, che non può essere tra due minuti. Ok? Qui dovete fare quei tre tiri e poi rimettervelo in tasca. Cioè quei tre tiri equivalgono ad una sigaretta. Ok? Quindi non continuate a starci appiccicati tutto il giorno come magari fate con altri dispositivi. Spero di essere stato abbastanza chiaro, spero di essere stato abbastanza esaustivo, spero di essere stato abbastanza compreso. Questo è tutto per la video recensione di oggi. Spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci rivediamo presto per una nuova video recensione e io come al solito vi auguro una buona giornata a tutti e una buona vita a tutti!